Sul Mediterraneo centrale la pressione in quota è in progressivo aumento, condizioni di stabilità attese fino a sabato prossimo. In Toscana giovedì 29 luglio cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli a regime di brezza, mari mossi a sud dell'Elba poco mossi altrove, temperature minime in lieve calo massime in ulteriore lieve aumento fino a 35-36 gradi in pianura. Anche sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso, a Lucche sulla Piana temperatura minima 20 massima 33 gradi, in Valle del Serche e zone montane minima 19 massima 34, a Via Regge sul litorale minima 22 massima 28 gradi, venerdì situazione stazionaria, temperature in ulteriore lieve aumento.